molto bene dovremmo essere in diretta molto probabilmente e ovviamente controlliamo sempre che tutto funzioni a quanto pare sì allora vediamo un po vediamo un po entriamo oggi diretta molto interessante ragazzi molto interessante perché e porto un caso studio ovviamente ce ne sono tanti all'interno del nostro percorso multimediale tecno training tecnica perfetta per appassionati ma oggi nello specifico vi voglio portare un caso studio e quindi far vedere come lavoriamo diciamo all'interno del percorso e come claudio ovviamente che è l'appassionato in questione che andremo ad analizzare è riuscito a migliorare il suo dritto in soli 30 giorni grazie al nostro percorso multimediale quindi e vi spiegherò in questa mezz'oretta che passeremo insieme per filo e per segno quali sono stati i passaggi e come è riuscito claudio a migliorare di conseguenza come potrete migliorare anche voi anzi rettifico come potranno migliorare anche gli ultimi cinque appassionati che si iscriveranno all'interno del percorso buonasera ciao ragazzi ciao a tutti perché come ben sapete fino alle 22 50 alle 23 59 di sabato 22 gennaio 2022 c'è la possibilità di entrare all'interno del nostro percorso tecno training in sconto in offerta speciale vi metto il link qua in basso ci sono solo cinque posti disponibili io vi consiglio di affrettarvi allora ragazzi iniziamo subito con l'analisi dicendo che parleremo di dritto sicuramente molti di voi stenteranno a migliorare questo colpo sicuramente in precisione c'è chi vuole dare più top spin c'è chi vuole aggiungere velocità al proprio dritto perché sbaglia magari sbaglia troppo eccetera eccetera e commette molti errori gratuiti bene iniziamo col dire una cosa che claudio era assolutamente alle basi quindi questo quello che vi sto dicendo va benissimo sia per quanto riguarda un appassionato che alle prime armi quindi vuole mettere delle solide fondamenta per iniziare a giocare bene a tennis sia per chi gioca già da tanto tempo e magari cerca quel cavillo quell'elemento quel dettaglio che gli possa far sbloccare direttamente la situazione ok quindi claudio in questo caso era alle prime armi che cosa abbiamo fatto praticamente come è riuscito in 30 giorni a migliorare il suo dritto innanzitutto vi voglio condividere il mio schermo e volevo farvi vedere chiaramente il prima e il dopo di claudio quindi il lavoro che abbiamo fatto con lui eccolo qua qua abbiamo il prima e qua abbiamo il dopo claudio prima e lui con la maglia gialla claudio dopo e lui con la maglia blu ovviamente abbiamo fatto un 30 giorni di allenamenti ovviamente tramite il nostro team io stesso mi sono messo all'interno mi sono applicato quindi il nostro team di maestri online per cercare di migliorare la sua situazione chiaramente il dritto di claudio nel prima come potete vedere era un dritto completamente quasi completamente da neofita e che richiedeva ovviamente un urgente intervento dal punto di vista tecnico anche perché l'impatto come potete vedere è assolutamente dietro al corpo e un impatto del genere è un'impostazione tecnica e biomeccanica del genere sul dritto alla lunga potrebbe provocare anche degli infortuni o comunque sia delle infiammazioni epicondilite epitroclite eccetera e vi dico questa cosa perché molti appassionati mi chiedono se i problemi di infortuni diciamo che vengono fuori saltano fuori durante l'anno riguardano potrebbero anche riguardare il loro tennis il vostro tennis e quindi come giocate tecnicamente la risposta è assolutamente sì perché nel momento in cui avete un movimento rigido contratto e applicate la leva nella parte sbagliata in tutti i movimenti rischiate chiaramente una contrazione muscolare e di conseguenza una pressione sui tendini e sui muscoli maggiori maggiori quindi come potete vedere tra il primo e il dopo il dritto di Claudio si è completamente trasformato riesce praticamente a muovere molto di meglio meglio l'anca sbloccare il tronco sbloccare il bacino e la spalla è rilassata il gomito è più libero di frustare e così anche più libero di frustare anche il polso ok per riuscire a coprire la pallina come siamo riusciti a fare tutto questo praticamente siamo partiti dalla base quindi prerequisiti impugnatura estense ma per poi montare la unità una massima ampiezza quindi tante cose nel nostro metodo di allenamento settoriale ma dando sempre un certo ordine dando sempre un certo ordine ma ci siamo soffermati soprattutto su una particolare su un particolare fondamentale che è praticamente lo sblocco dell'intera catena cinetica all'interno del nostro percorso multimediale tecnotraining c'è un video della durata dalla durata di 5 minuti e 38 secondi di campo dove io e Diego Zonzini che è il mio collaboratore andiamo a spiegare per filo e per segno come si deve sbloccare l'anca ovviamente c'è un metodo c'è una progressione didattica che poi specifica per ognuno infatti con Claudio abbiamo parlato anche in diretta in quei decolli eccetera quindi abbiamo trovato diciamo la soluzione specifica l'ancoraggio tecnico specifico migliore per Claudio per riuscire a mettere subito applicare subito sul suo tennis la correzione in modo tale che rapidamente potesse diciamo migliorare questo aspetto tecnico quindi cosa succede lo sblocco progressivo della catena cinetica ci spiega come riuscire a muovere i segmenti muscolari uno dopo l'altro in successione in successione scandita e ordinata nel tempo quindi abbiamo una successione temporale ecco perché il colpo viene definito azione multisegmentata e non azione unita dove intervengono tutti i segmenti corpori contemporaneamente sulla palla e magari potrebbe capitare su un dritto giocato velocissimo del tuo avversario su una palla che prende la riga su una risposta a un servizio velocissimo dell'avversario ma l'ottanta per cento dei dritti viene giocato ad azione multisegmentata cosa vuol dire vuol dire che i segmenti muscolari si devono muovere in serie in successione scandita ordinata nel tempo cioè prima si avviene in maniera molto semplice prima viene una cosa poi avviene un'altra poi avviene un'altra poi avviene un'altra poi avviene un'altra e la cosa bella di questa successione ordinata e scandita nel tempo quindi quest'azione multisegmentata è appunto questa che se noi eseguiamo bene la fase di preparazione magari la unitarn e quindi eseguiamo bene la massima ampiezza è una conseguenza poi la fase di attacco palle quindi di accelerazione racket drop è una conseguenza lo sblocco della catena cinetica ed è anche una conseguenza l'impatto il finale quindi come vedete perché si chiama catena cinetica perché ogni anello della catena è collegata all'altra e come dire guarda diciamo in nel tuo nel tuo gioco complessivo qual è l'anello più debole perché l'anello più debole se pressato e forzato e rotto andrà poi a rompere l'intera catena quindi bisogna stare molto attenti ad aggiustare il singolo elemento il singolo anello più debole perché quando andiamo a rinforzare quello allora saremo veramente indistruttibili nello specifico dopo che abbiamo dato una raddrizzata generale a tutto il colpo di Claudio è il dritto perché come potete vedere lui con la maglia gialla non aveva una preparazione l'impugnatura era scorretta si muoveva a caso con le stance l'impatto era arretrato il finale era basso cosa succede dopo che gli abbiamo dato una buona impostazione tecnica ci siamo resi conto che purtroppo il 90 per cento dei dritti degli appassionati si muovono ad azione unita quindi si tende a muovere tutti i segmenti muscolari insieme anche se abbiamo non abbiamo tanta pressione spazio temporale quindi cosa succede succede una cosa molto bella abbiamo cercato di scomporre il movimento e vi faccio vedere ad esempio il dritto next gen ma anche i dritti tiratemi fuori tutti i dritti che voi volete eh da scartabellatevi dal primo all'ultimo non ce ne sarà uno che presenta un'azione unita a meno che non colpiscano in risposta su una palla molto veloce dell'avversario e questo l'abbiamo già detto quindi in forti situazioni di pressioni spazio temporale ma l'ottanta per cento dei dritti rappresentano lo sblocco della catena cinetica che era l'elemento che volevamo implementare nel dritto di Claudio quindi cosa succede in poche parole lo sblocco della catena cinetica ci richiede un tempo di latenza tra la rotazione del tronco e la racchetta che rimane sostanzialmente dietro col tappo che punta verso la palla vi posso far vedere chiaramente il dritto di Claudio di eh di prima eh quando cosa vuol dire muovere praticamente tutto insieme vediamo un po' scusate abbiate un attimo di pazienza che l'avevo perso un secondo eccolo qua questo è il dritto di Claudio dove praticamente va a muovere tutto insieme con un'azione unita ma guardate che non lo faceva solo Claudio questo è un errore molto tipico che viene commesso da tanti appassionati e soprattutto alle prime armi praticamente quando noi muoviamo la racchetta come potete vedere la racchetta si muove contemporaneamente alla rotazione del tronco quindi io muovo tronco e racchetta insieme in questo modo ho il gomito completamente teso ho il polso completamente bloccato perché come potete vedere il gomito parte che è già completamente disteso e quindi non ha più eh spazio di movimento spazio di accelerazione il polso è bloccato perché anche l'impugnatura è una continental quando andiamo a ruotare vedete come si ruota tutto insieme quindi si va a ruotare il tronco e la racchetta contemporaneamente guardate hop e vado questo praticamente questa rotazione unita eccoci qua ci fa impattare la palla dietro e un momento di inerzia assolutamente maggiore perché abbiamo il gomito bloccato quindi non ha spazio di accelerazione non può frustare non è libero quando invece dovremmo mantenere la spalla ferma e il gomito e il polso morbidi quindi gomito polso morbidi e spalla assolutamente ferma per poter riuscire a frustare a frustare scusate quindi cosa succede succede che questa cosa era da cambiare anche perché se guardiamo e questo non è solamente un dritto come tutti dicevano ah ma la palla era più vicina dalla rete era più lontana a lui non è così abbiamo analizzato tutti i suoi video molti sono anche di 24 minuti quindi ragazzi c'è lavoro dietro non è che parliamo a caso e come i tanti saputelli che dicono ah ma questa palla era più lontana era più vicina alla riga era corta non puoi paragonare una palla che gli è rimbalzata due centimetri prima rispetto a quella dopo sono tutte cagate va bene perché alla fine quello che conta è la media dei dritti che Claudio ha tirato e andare a vedere qual è il sostanziale difetto tecnico se poi vogliamo andare a trovare il cavillo giusto perché non abbiamo niente da fare si può fare è una nostra mentalità tipica ma non ci serve per migliorare la situazione quindi quando andiamo a vedere che il corpo si muove contemporaneamente braccio e braccio e tronco si muovono contemporaneamente questo è un altro dritto come potete vedere quindi non c'è questo tempo di latenza questa diciamo questa come posso dire sì è proprio un tempo di latenza cioè si viene a aumentare il tempo che intercorre tra il trascinamento del tronco delle anche e il trascinamento della racchetta quindi il famoso amerection se avete visto i nostri video su youtube sono stati i primi a parlare di amerection e di dare questo gergo nel mondo del tennis online quindi questo era il difetto di Claudio dovevamo aumentare il tempo di latenza tra la rotazione del tronco e il trascinamento della racchetta verso l'avanti il tappo il trascinamento del tappo della racchetta verso l'avanti e figa o no questa cosa c'è per chi lavora come noi che fa ricerche sul tennis ed è appassionato appassionato e soprattutto sa come giocare chiaramente è una cosa molto figa da migliorare anche perché abbiamo analizzato tanti giocatori professionisti in cui in the call quindi possiamo vedere Rafa Nadal queste sono sicuramente delle riprese dove si vede meglio anche perché sono riprese in full hd e non col cellulare tutte le riprese che vi faccio vedere dei nostri appassionati sono riprese con il cellulare quindi vanno bene comunque e come potete vedere c'è questa a questo anticipo dell'anca rispetto a questo c'è un tempo di latenza tra l'anca e il trascinamento del tappo della racchetta ok con questo leg wrist questo angolo che si fa col polso in contrazione eccentrica e quindi il muscolo si allunga gli estensori del polso si allungano e tirano sia verso il basso che verso dietro ma questo è un altro discorso Rafa riesce a farlo ed è il tennista numero uno al mondo nel riuscire a fare questo leg wrist questo angolo tra il polso e la racchetta che praticamente è molto accentuato verso dietro tirando verso il basso ma anche molto verso dietro quando si va a srotolare il movimento ecco le sue 4000 rivoluzioni per minuto sulla pallina è una cosa che ha geneticamente innata e ad ogni modo se potete vedere qua c'è un caricamento guardate lo simbolo della nike dove guarda poi guarda il simbolo guarda di lato poi guarda avanti e mentre guarda avanti Rafa ancora la racchetta dietro quindi cerca proprio di esagerare questo tempo di latenza tra l'anticipo dell'anca e il tappo della racchetta all'ingresso con la palla perché questo trascinamento poi di 15 centimetri del tappo verso l'avanti prima di cedere l'energia con la punta della racchetta non fa altro che dare ancora più frustate ancora più velocità al colpo quindi la racchetta non va insieme ma prima il tronco poi entra il tappo della racchetta e poi entra la testa della racchetta stessa stessa cosa analizzando il diritto di Roger Federer quindi lo andiamo a vedere da dietro il qui il tronco si è già si fa un po fatica diciamo su Roger per andare a vedere questo dettaglio tecnico perché Roger quando gioca in allenamento la maggior parte delle volte è molto scazzato non si vede diciamo impegnato al cento per cento quindi è difficile dall'inquadratore di youtube che abbiamo vedere questo diciamo questa intensità del colpo e quindi vedere anche questo ritardo della punta della racchetta rispetto all'anticipo dell'anca facciamo fatica perché ovviamente più agiamo ad intensità e più si vede che per esempio nadal che da intensità anche in allenamento come se fosse in partita si vedeva benissimo comunque guardiamo Roger eccoci qua leg of wrist quindi polso e testa della racchetta che fanno un angolo e praticamente l'anca che va in anticipo sul tappo della racchetta anche lui però anche se vediamo che piuttosto sciolto ha questo trascinamento del tappo prima di fare entrare la punta della racchetta poi ovviamente la cosa che possiamo vedere più di tutte su Roger Federer è la sua massima decontrazione Novak Djokovic per esempio andiamo a vedere il dritto del giocatore serbo e anche lui qui stava spingendo in un allenamento eccoci qua quindi l'anticipo dell'anca soprattutto sul tappo della racchetta quindi il tappo della racchetta crea un ritardo sull'anca e trascina il tappo per 10-15 centimetri prima di fare entrare la punta della racchetta verso l'avanti e andare a frustare quindi come vedete i dritti sono tutti così Yannick Sinner l'anca destra entra rispetto al tappo della racchetta che guarda la palla e qui non è in slomo comunque poi quando va a impattare entra la punta della racchetta stessa quindi anticipo dell'anca un attimo prima diciamo che Sinner non ce l'ha molto accentuato ma comunque se io fermo la eccoci qua se io fermo l'inquadratura comunque l'anca ruota prima del tappo della racchetta quindi la racchetta non ruota insieme al tronco che si vede perché qui si crea un leg wrist anche lui il tappo della racchetta guarda la palla mentre l'anca va in anticipo non preventivo non così tanto in anticipo ma comunque ci va andiamo a vedere Dominic Diem come puoi vedere anche qui il tappo della racchetta guarda la palla l'anca entra e più siamo in spinta si nota anche dal piede posteriore che spinge col collo verso la direzione del campo qua non è questo il caso ma ma quando entra il dritto di Dominic Diem e l'anca va a entrare principalmente eccoci qua sul tappo della racchetta stessa cosa ovviamente in slomo si prende molto meglio Daniel Medvedev che forse si appresterà essere il prossimo numero uno ATP e l'anca va a entrare sulla sulla punta della racchetta quindi c'è l'anticipo dell'anca rispetto al tappo della racchetta che guarda la palla e di conseguenza quest'azione multisegmentata questo è bellissimo da vedere perché in super slow motion lo andiamo anche a vedere in questo modo eccoci qua qua entra l'anca abbiamo già ruotato il tronco il petto il simbolo Lacoste guarda verso l'avanti e solo in un secondo momento entra la punta della racchetta quindi questa è un'immagine bellissima che ci consente di analizzare nel micro frame e mano assolutamente libera in decontrazione sul finale anche se ha una tecnica molto particolare Medvedev comunque questo è quello che stavamo analizzando e abbiamo provato ovviamente a metterlo sul dritto di Claudio dove possiamo vedere come adesso analizzando i giocatori professionisti possiamo vedere come il suo dritto andasse praticamente ad azione unita quindi sia il tronco che la racchetta si muovevano simultaneamente quindi non c'era mer action e non si riusciva chiaramente a creare quel riuso elastico muscolare tipico di un dritto diciamo in decontrazione perché avere un'azione multisegmentata significa anche sforzarsi meno infatti se vedete la faccia di Claudio era molto contratta nel tentativo di riuscire proprio a imprimere forza quando in realtà un buon dritto e il viso di solito i muscoli facciali ce ne sono più di 180 devono rimanere tutti distesi e ambaradam dopo tutti i trucchetti del mestiere la progressione didattica del mese e ci sono varie esercitazioni da fare sia in campo che extracampo tramite lanciapalle simulazione gara sparring maestro di circolo eccetera eccetera cosa siamo riusciti a fare siamo riusciti ad ottenere questo risultato quindi ve lo faccio rivedere qua è una super slow motion prendo un dritto a caso quindi possiamo vedere che per quanto riguarda l'anticipo dell'anca il diciamo risultato è stato ampiamente ottenuto perché qui la vediamo meglio forse vi prendo un dritto dove magari gioca a fondo campo può essere molto più utile dove non avanza se rimaniamo sulla linea vediamo un po se riusciamo adesso ve lo prendo eccoci qua questo no perché di là c'è la luce purtroppo e quindi facciamo più di fatica eccoci qua quindi la tappo della racchetta punta verso l'avanti il petto si sta piano piano sbloccando guarda verso avanti mentre la punta della racchetta e il tappo della racchetta crea questo ritardo ok quindi se andiamo a vedere faccio prima prendervi il dritto che vi avevo preso qua in analisi che forse facciamo prima eccoci qua se vi concentrate sulla parte destra dello schermo la praticamente questo punto qua questo sblocco della catena cinetica che poi può essere ancora migliorato adesso lo dico a voi perché qui non c'è un lag wrist ma la racchetta punta verso dietro ma non tira verso il basso quindi non creiamo tanta come dire contrazione eccentrica dei muscoli estensori del polso ma nel momento in cui la tiriamo verso dietro creiamo ancora più contrazione eccentrica dei muscoli estensori del polso ma comunque ci possiamo accontentare come modello di prestazione iniziale perché il petto guarda verso l'avanti la punta della racchetta è in ritardo quindi abbiamo un tempo di latenza e il tappo della racchetta guarda verso la pallina e come dicevamo all'inizio come conseguenza di tutto ciò abbiamo un impatto mentre prima muovendo insieme ad azione unita era sul fianco del corpo dopo siamo riusciti a impattare la pallina 40 centimetri davanti alla gamba anteriore garantendo un gomito il gomito molto più decontratto il polso libero di muoversi infrustata e la spalla bene solida e ferma per riuscire a mantenere diciamo tutto il movimento in maniera del tutto decontratta come possiamo vedere anche la testa qui di claudio era all'interno del poligono d'appoggio e guardava un impatto troppo arretrato mentre la testa nell'impatto del dopo è naturalmente rilassata quindi riesce a prendere la palla bene davanti al corpo ragazzi io non so voi ma non so se vi riuscite a rendere conto dell'importanza di tutto questo cioè veramente è un'importanza con lo sale significa comunque risparmiare tempo risparmiare fatica ma soprattutto riuscire ad avere un protocollo un metodo da riuscire a sviluppare in pratica passo passo che in pochissimi giorni vi può veramente condurre al miglioramento del vostro tennis e come ce l'ha fatta claudio che ha lavoro che ha famiglia che ha tante cose da fare chiaramente così ce la potrete fare anche voi sicuramente quindi se siete realmente motivati a migliorare il vostro tennis tutto quello che dovete fare adesso io ve lo consiglio mancano cinque posti disponibili e entrare all'interno del nostro percorso multimediale perché entro alle 23 59 di sabato 22 gennaio 2022 avete la possibilità oppure anche fino a domani se vi scrivete in cinque entro stasera perché chiuderò e bloccherò alle a stasera le se questi cinque posti verranno polverizzati praticamente che cosa farò tenderò a farvi entrare all'interno del percorso all'interno del gruppo riservato facebook nostro tennis winner game dove potremo iniziare a fare il lavoro che ha fatto claudio ovviamente su tutti i colpi del tennis dritto servizio rovescio gioco di volo attualmente abbiamo più di 489 iscritti e più di 94 video training e come vi dicevo techno training sia per gli appassionati che iniziano da poco sia chi gioca da molto e che magari vuole andare a trovare il cavillo perché la nostra particolarità è appunto quella di riuscire a trovare il cavillo l'elemento tecnico che poi va a risolvere come un elemento scatenante una cassetta scatenante e tutti gli altri difetti tecnici è un po come quando come vi ho ripetuto all'inizio si va a trovare la il punto più debole della catena e se riusciamo a rafforzare quello diventiamo invincibili quindi cosa succede otto moduli e sono diviso quindi techno training è diviso in otto moduli dove vediamo tutti i prerequisiti della tecnica impugnature stance posizioni dei piedi poi dritto rovescio biomeccanica del servizio da risposta del gioco di volo e praticamente siamo io e diego zonzini che subentra nella parte di ex locatore professionista classifica 24 subentra nella parte di dimostrazioni pratica con video slow motion in più avete sei bonus fantastici nel senso che avrete non solo tutto il percorso oltre sette ore di video formazione tutto il metodo nel techno training all'interno della vostra area riservata ma avete anche questi sei bonus il primo sono otto ma mentali concettuali in formato pdf una per ogni modulo che potete scaricare e portare sempre con voi il secondo avete otto file mp3 potete sentire anche il percorso se siete impossibilitati a vedere i video il terzo potete accedere al gruppo riservato facebook che vi ho appena fatto vedere dove attualmente ci sono 225 membri guardate quanti appassionati stanno pubblicando appunto perché la pubblicazione dei video che ci consente poi di rompere il gap tra noi accorciare la distanza tra noi tutti gli appassionati per esempio potete vedere qua loris sta giocando dietro casa sua con una macchina lanciapalle sta cercando di automatizzare il movimento ma c'è anche chi gioca al muro c'è chi gioca col maestro e c'è chi fa esercitazioni specifiche insomma si trova veramente di ogni ad esempio Elena stava tramite la visualizzazione perché il cervello non distingue la realtà dalla fantasia vividamente immaginata cercando di imitare simulare il movimento senza essere in campo è come se ci stessimo allenando realmente quindi questo metodo tende alla consapevolezza del gesto tecnico tende anche alla propria eccezione e più si migliora la propria eccezione la consapevolezza del gesto più si migliora anche in campo quindi la simulazione è una parte fondamentale sia simulazione gara che palleggio che al cesto che con uno sparring eccetera quindi mh e qui è importante partecipare perché vi prendete tutti i nostri commenti ad esempio vi faccio entrare all'interno del gruppo facebook perché ce l'ho già aperto e qui Stefano si stava facendo una video analisi sul suo sul suo dritto e guardate che roba adesso farò il prima e il dopo di Stefano lui aveva messo i checkpoint i reminder qua praticamente lavoravamo sulla unitarn che non c'era e qui già nel video della settimana dopo guardate che gran miglioramento qui ad esempio abbiamo un finale bassissimo e qui abbiamo un finale corretto e poi abbiamo continuato con altre correzioni praticamente assolutamente personali quindi questo è importante e in modo tale che l'appassionato possa continuare il proprio miglioramento tendistico da qualsiasi parte diciamo e soprattutto step by step senza essere abbandonato al caso questa è una cosa molto importante io il mio team e tanti altri appassionati commentiamo all'interno come vedete sono dei video molto molto forniti dove si prendono un sacco di feedback ogni settimana ci vediamo in quindi una ventina di noi partecipiamo in sala e praticamente io il mio team rispondono a tutte le domande di tutti gli appassionati facendo anche le video analisi settimanali ogni mercoledì alle 21 quindi se entrate mi farebbe molto piacere vedervi domani sera e abbiamo un giochino molto carino nel senso che c'è il ring de bell ogni appassionato appassionata così come federica quando si batte un rivale storico del circolo una rivale storica del circolo si suona la campana e quindi si ricevono i complimenti di tutti e ci muoviamo con questo flusso energetico che di alta energia che più che mai in questo periodo serve diciamo a ognuno di noi qui miglioramenti su miglioramenti alessandro con la unitarn eccetera eccetera quindi gruppo facebook è fondamentale solo questo vale tutto l'intero percorso multimediale in più abbiamo l'accesso gratuito alla sezione membership che è una sezione io la definisco il netflix per appassionati giocatori di tennis dove ci sono nuovi contenuti esclusivi pubblichiamo un video training alla settimana quindi continui aggiornamenti contenuti in continuo aggiornamento permanente programmi di allenamento webinar registrazioni delle quende colle tanto altro ancora solo là ci sono più di 300 video che sono delle risposte alle domande che gli appassionati mi fanno entro in campo e faccio una progressione didattica specifica su misura per l'appassionato è un po come andare da h&m comprare un vestito oppure farselo su misura da giorgio armani sono due cose un po completamente diverse e il quinto bonus la maglietta ufficiale tennis winner game arriverà in puro cotone a casa per giocare quindi un pacchettino vi arriverà a casa brandizzato tennis winner game più bonus 6 block notice più penna tennis winner game per prendere appunti su tutto questo percorso che è immenso e fantastico dove ci sono tantissimi appassionati qua trovate qualche video testimonianza e altre cose in poche parole entro avete ancora quattro giorni di tempo ancora quattro giorni due ore e cinquantacinque minuti ma come vi ho detto posso prendere solo 20 posti disponibili 15 si sono già polverizzati me ne rimangono 5 per quale motivo facciamo questo perché come vedete la sala è intasata tutto quello che vi ho fatto vedere riguarda solamente l'ultima settimana vedete targato 13 gennaio 14 gennaio 11 gennaio e in sala non posso prendere più di 20 appassionati perché domani abbiamo da analizzare anche se non sono da solo ma facciamo parte del team con maurizio ed altri tennis coach dobbiamo analizzare tutto quello che è successo nella settimana e c'è davvero un casino di roba da analizzare solamente in quest'ultima settimana e quindi capisce bene che io non posso aprire la sala tutti ma volendo mantenere la qualità sono per forza obbligato a chiudere ai venti attualmente mancano cinque posti disponibili quindi domani potreste non trovare più i posti e se andate nel nostro sito internet tennisonergame.com non ci sono questi prezzi ma ci sono investimenti con il 73 per cento in più rispetto a quello che vi sto facendo vedere adesso con il link che trovate all'interno di questa diretta invece entrano inoltre chiaramente la data di scadenza ed entrano inoltre i limiti dei posti disponibili potete accedere al 73 per cento di sconto quindi avete una la possibilità di entrare ora con un abbonamento mensile di 47 euro più iva dove potete disdire quando volete e riprendere sempre con questa offerta questa è un'offerta che non rifarò mai più quindi un'offerta davvero epica e vantaggiosissima ve lo ripeto non la rifarò assolutamente più perché è un regalo e poco più di una cena al mese per godervi di un vostro miglioramento tennistico che magari ancora non avete non siete mai riusciti a realizzare e oppure potete godere di un abbonamento annuale da 470 euro più iva anziché 1788 in pratica se investite tutto subito di sconto due mesi quindi anziché pagare 12 mesi come se ne pagaste 10 quindi quello che dovete fare secondo me ora e immaginarvi a 12 mesi da oggi e guardandovi alle spalle vedere tutti i miglioramenti che sono stati fatti quindi provate ad immaginare se solamente grazie a questo percorso riusciste a battere il vostro rivale storico del circolo a migliorare il vostro livello di gioco drasticamente quindi la tecnica dei vostri colpi riusciste a tirare molto più forte rispetto ad ora aggiungendo 25 chilometri all'ora al vostro dritto al vostro servizio al vostro rovescio e se magari avete qualche paura nel giocare il back il colpo il rovescio in top spin perché magari vi rifugiate nel back perché avete paura di sbagliare potete dire basta per sempre definitivamente a tutti questi vostri timori alla vergogna del doppio fallo soprattutto se giocate in doppio e gli altri tre aspettano che voi serviate per fare l'ennesimo doppio fallo potete dire basta quegli errori sbagliati in rete a quei colpi sbagliati in rete sui dritti magari alti lenti dentro la metà campo potete dire basta tutto questo e potete farlo semplicemente agendo ora cliccando qua e riuscendo ad entrare tra i primi cinque se sarete fortunati se già non la non l'hanno già fatto eh degli appassionati all'interno di questa diretta all'interno del nostro percorso multimediale dove io e il mio team vi seguiremo personalmente come dei maestri online quindi ragazzi io vi consiglio assolutamente di partecipare avete visto le trasformazioni avete visto i casi studio vi ho fatto vedere tutto quello che facciamo non vi resta solamente che provare il percorso entrare all'interno fare video darvi da fare studiare il tecnotrading e vi garantisco che come sono riusciti tutti gli altri appassionati anche voi al novantanove virgola nove per cento vi lascio con lo zero uno che magari di finestra di possibilità perché non mettete in pratica nulla ma il novantanove virgola nove per cento dei casi tutti questi appassionati sono stati davvero realizzati hanno sono riusciti a migliorare il loro tennis a battere il proprio rivale storico del circolo a vincere tornei addirittura tpra classificandosi primi e a salire di tante classifiche nei tornei fit ma anche se non volete giocare tornei sono sicuramente riusciti a essere molto più realizzati con loro tennis allora io arrivati a questo punto vi aspetto all'interno mi raccomando non vi affollate perché ci sono solo cinque posti disponibili io mi auguro che voi facciate la scelta più importante di sempre che quella di entrare all'interno del tecnotraining a capparrarvi adesso lo sconto del 73 per cento entrano inoltre le 23 59 di sabato 22 gennaio 2022 e mi raccomando ci vediamo dall'altra parte io non vedo l'ora di allenarti dal vivo ti auguro tutto il meglio buona serata e come sempre play tennis with passion ciao da tiziano grazie a tutti